Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri è saltata fuori una foto con la ministra Dadone, in jeans, scarpe sul tavolo, tutte e due le gambe e le scarpe sul tavolo, felpa dei Nirvana. Beh, forse voleva festeggiare così la festa della donna, delle donne per l'8 marzo, ma in realtà si è fatta un clamoroso autogol. Beh, insomma, la ministra per le politiche giovanili forse voleva sembrare giovane, dice sono giovane, mi metto la maglietta di Nirvana e faccio le politiche per i giovani. Ricordiamogli che i giovani di adesso in Nirvana probabilmente non sanno neanche chi erano. In Nirvana è per chi era giovane negli anni 90, nonostante il loro successo planetario. Se andate a chiedere adesso a un giovane di 20 anni probabilmente sì, li ha sentiti, ma non li ha magari neanche mai ascoltati. Quindi la politica da donne, ministro per le politiche giovanili, fa la giovane. Ma che tristezza, ma che tristezza. Ma che cosa voleva dimostrare con le scarpe sul tavolo? Così voleva simboleggiare sono una donna e comando io qua? Questo è il successo delle donne come me? Scarpe sul tavolo? Simbolo di potere, le scarpe sul tavolo? Beh, intanto le scarpe sul tavolo è simbolo di maleducazione. Io quando ero direttore commerciale, ho stato direttore commerciale, direttore vendite, direttore di aria, in diverse aziende anche multinazionali, non mi sono mai permesso e mai mi sarebbe passato per la testa di mettermi con le scarpe sul tavolo. E' una cosa volgare, una cosa volgare che io non ho fatto mai, perché denota veramente un certo tipo di persona. Di solito chi fa così è quella persona che non ha mai avuto nessun tipo di potere, all'improvviso si trova con una posizione di potere e vuole riaffermare io sono. Le scarpe sul tavolo significano io sono, ma in una maniera veramente maleducata. E poi soprattutto, soprattutto, un ministro con dietro le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Europa che si fa fotografare e pubblica pure la foto è un affronto istituzionale al ruolo che ricopre, al ruolo che è una mancanza di rispetto per il ruolo del ministro, una persona con le scarpe sul tavolo. Ma sembra di non averlo capito, perché se voi lo pensate, adesso mi metto le scarpe sul tavolo, ti fai fare una foto e poi dici, wow, che foto, come sono potente, guarda qui, eh, ministro con le scarpe. E poi la vai pure a pubblicare, hai fatto tutto un processo nel quale neanche un istante hai capito quello che stavi facendo. Però questo è una caratteristica molto marcata dei politici per caso che abbiamo ultimamente. Ma voi negli anni passati vi sareste mai immaginato un politico che si faccia fotografare con le scarpe sulla scrivania? Viene in mente quello che era entrato al Campidoglio e si era fatto fotografare sulla scrivania della Pelosi con le scarpe sul tavolo, ecco. Insomma, lei però scrive, lei scrive, si cerca non di giustificare, ma afferma il suo gesto, non ha capito niente. Dice, ho 37 anni e sono una ragazzina, oh mamma mia, per questo paese mi faccio, ma faccio il ministro, quindi è un ministro ragazzina, ecco. Non sono sposata, ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno. Ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre. Amo la musica rock pesante, ma non mi vesto in maniera alternativa. Guardo film strappalacrime, ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio, scrive la ministra in un lungo messaggio su Facebook. Sono un ammasso di stereotipi e nel corso della vita mi è stato fatto notare molte volte. Cara Fabiana, sei così giovane come puoi essere un ministro. La politica non si addice di più agli uomini. Chi si occupa dei tuoi figli quando sei a Roma? Non sei troppo bassa rispetto a come la tv ti fa apparire? Non sei troppo graziosa per essere presa seriamente? Non sei troppo trascurata nell'abbigliamento per ricoprire ruoli istituzionali? In questa giornata tanto evocativa e tanto attenta al politicamente corretto, vorrei dire con molta onestà che sul fronte della parità di genere c'è ancora molta strada da fare. Una strada insalita e piena di ostacoli culturali che dobbiamo avere la forza di affrontare con tutta la tenacia che abbiamo nel cuore. Buon 8 marzo a tutti. Beh, insomma, quei piedi sul tavolo, secondo te, rispondono a chi ti dice sei troppo giovane, sei troppo... Quei piedi sul tavolo è un'assoluta mancanza di rispetto al ruolo istituzionale. Io personalmente sono stanco di questi politici per caso, veramente siamo arrivati sul fondo. Ma lei questo non l'ha neanche, neanche capito. Neanche capito. Cara Dadone, nessuno ti ha mai calcolato, nessuno ti ha mai criticato perché sei un ministro un po' per caso, che nessuno ha mai detto nulla, perché nessuno ti si calcola. Adesso farti la foto con le scarpe sul tavolo, insomma, ecco. Scarpe rosse. Scarpe rosse probabilmente sono il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Non sono però andate giù a molti, quei piedi sul tavolo, per far spiccare le scarpe rosse, per far vedere io sono. Così lei ha dovuta intervenire con le critiche. Loro sono senza scarpe rosse, ha risposto commentando il suo stesso post, pubblicando le foto dei presidenti americani e Obama e Bush con i piedi sul tavolo. Apriti cielo, la toppa è peggio del buco. Quindi lei è a livello del presidente degli Stati Uniti, scrive qualcuno. Anzi, a giudicare che può fare a meno di un abbigliamento formale un gradino sopra, oltre a non essere per niente umile, con questa foto dimostra pure di non essere stata nemmeno originale. Francamente, lo ripeto, imbarazzante. È uno dei tanti commenti negativi. Beh, insomma, sono quelle persone che cercano di mettere una pezza e aprono il buco. Va bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Un grazie a tutti. Se volete ci vediamo tra poco in un altro video. Arrivederci.